Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 22 agosto del 2021. Siamo arrivati alla ventunesima domenica del tempo ordinario. Cari fratelli, la lettura del Vangelo di San Giovanni è anche oggi la continuazione di quella delle ultime domeniche e la conclusione del discorso di Gesù a Cafarnao, quando prendendo occasione dal segno della moltiplicazione dei panni e dei pesci, annunziò l'Eucaristia e con essa la necessità della fede. Dice così, molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero, questo linguaggio è duro, chi può intenderlo? Gesù, conoscendo dentro di sé che i suoi discepoli proprio di questo mormoravano, disse loro, questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita, ma vi sono alcuni tra voi che non credono. Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E continuò, per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre mio. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Dice allora Gesù ai dodici, forse anche voi volete andarvene? Gli rispose Simon Pietro, signore da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Gesù parlò del pane della vita, mettendo in chiaro che il pane della vita è lui e che ciò che avrebbe dato l'Eucaristia non è un altro simbolo come quello dei panni moltiplicati, ma realtà concreta, fisica, da mangiare, da assimilare persino nel nostro corpo, per avere in noi la vita, per diventare una sola cosa con lui. Il Signore parla di tendere un ponte tra lui e noi, per sollecitare una nostra risposta e creare una comunione di amore e di vita con lui. Le sue parole attendono una nostra risposta. Di fronte alle sue parole sconvolgenti, non c'è da fare che una cosa, prendere o lasciare. Di fronte a questo il Signore chiede semplicemente un atto di fede. Nella sua semplicità un atto che si apre all'infinito e lo abbraccia, o che si chiude e lo rifiuta. È un sì che nasce non da quello che la nostra intelligenza intende, ma da quello che Egli è per noi e che il nostro cuore riconosce. Egli merita di essere creduto, ha le carte in regola, lo ha dimostrato con tutti i segni che ha fatto e prima ancora con il segno che è lui stesso, la sua vita. Le parole del Signore nel Vangelo, le parole che la Chiesa ha ereditato da Lui, sono esigenti. Non si possono discutere né tergiversare. Sono assolute, perché Dio è l'assoluto. Non si può mercanteggiare con esse per non urtare il mondo. Non è la Chiesa che si deve adattare al mondo, alla sua mentalità, ma è il mondo che si deve convertire a Cristo. Questo è stato sempre chiaro, mentre adesso per tanti non è chiaro. Le messe verità condite di ambiguità, di sofismi, di distinguo, di sì ma no, di no ma sì, sono il linguaggio di chi non ama la verità. E dice l'Apostolo Giovanni, non amate il mondo, né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre ma dal mondo, e il mondo passa con la sua concupiscenza. Ma chi fa la volontà di Dio rimane ineterno. Questo linguaggio è duro, chi può intenderlo, dissero. Per chi è duro? Per la nostra durezza di cuore, durezza di una volontà con la quale il nostro io pretende di dire a Dio quello che è vero e quello che è falso. Dice San Paolo, con il cuore si crede, per avere la giustizia, e con la bocca si professa, per avere la salvezza. Così è il meccanismo della visione. La luce esterna arriva ed entra dalla finestra della nostra intelligenza, ma la mano che dall'interno apre o chiude la finestra è la nostra volontà. Se vogliamo apriamo gli occhi, e allora la luce diventa nostra, altrimenti restiamo al buio, ciechi, pretendendo di avere, come un certo lucifero, luce propria. E a questo punto avviene il giudizio. Di fronte a quanto ci presenti il Signore, non abbiamo che due opzioni, prendere o lasciare un sì o un no. Solo dopo che il cuore si apre e dice sì, la mente si illumina e si incomincia a comprendere l'infinito mistero del suo amore e a cambiare la nostra vita. Lo ha detto Gesù, è lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che vi ho detto sono spirito e vita. Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto e conosciuto che Tu sei il Santo di Dio, dice Simon Pietro, a nome di tutti. Il problema non è il Signore, ciò che Egli dice. Il problema siamo noi, mentre Egli è la soluzione. E alla fine dell'ultima cena gli dissero i Suoi discepoli, ecco, adesso parli chiaramente e non fai più uso di similitudini, ora conosciamo che sei tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio. Ecco, vedete come queste parole sembrano la ripetizione di quelli di prima di Simon Pietro. Ma Gesù rispose loro, adesso credete? Ecco, verrà l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto proprio e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia. Io ho vinto il mondo. Gesù lo disse allora ai discepoli, ma lo dice adesso a noi. È arrivata l'ora in cui vi disperderete e mi lascerete solo. Fratelli cari, già sappiamo, lo stiamo vedendo, che sta arrivando per tutti noi una grande prova, una grande tribolazione, in tanti modi, ma in sostanza è la grande prova della nostra fede. Dice San Paolo, prima Corinzi, chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. Nessuna tentazione vi ha finora sorpresi che non sia umana. Infatti Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita e la forza per sopportarla. E ha detto il Signore, chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà innanzitutto di vista, per me la salverà. E il Signore, vedendoci impauriti e così fragili, ci ripete, vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia, io ho vinto il mondo. E alla nostra Luisa Piccarretta dice, figlia, la fede fa conoscere Dio, ma la fiducia lo fa trovare. Sì che la fede senza la fiducia è fede sterile. E adonta che la fede possiede immense ricchezze per potersi arricchire l'anima, se manca la fiducia resta sempre povera e sprovvista di tutto. Si tratta ancora di passare all'altra riva, come abbiamo visto in queste ultime domeniche. Si ripete questa frase, passare all'altra riva, ma oggi questo significa passare dalle sicurezze del proprio io alla fede e fiducia in Dio. In verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.